Buonasera Buonasera Di nuovo qui lei? Sì Come mai? Così? Oggi Mentre ero a casa ho pensato Meglio rimanere tra le pareti domestiche Beh Ma poi ho riflettuto E mi sono detto Come possono andare avanti Senza la speranza Che offre la poesia Ma guardi, ma lei non si deve preoccupare per noi Tanto noi di andare avanti nel nostro piccolo ci riusciamo Ma guardi, non si preoccupi E' il piacere Dalla mia terza raccolta di poesie Dal titolo Mi illumino d'incenso Reciterò i versi di Sono passati sette anni Ma il mio amore E' rimasto intatto Sottotitolo Il giorno della riesumazione Guardi, lei è in grado proprio di creare Questa atmosfera allegra E' il piacere Sei venuta fuori dalla cassa Perfetta Come una banconota Del Bancomat Guardi, queste sue poesie sono proprio piene di speranza C'è l'anelito al vero E' il piacere Scusi, scusi, scusi Hai ragione Bene, vi voglio salutare Per oggi Perché torno pure domani, no? Sì, bene Vi voglio salutare con La mia poesia più intensa Dal titolo Il tuo respiro Il tuo respiro A volte Leggero Il tuo respiro A volte Intenso Ieri Era dolce Ma adesso Il tuo respiro E' venuto meno Il tuo respiro